Un attimo soltanto, potete già iniziare, signora Elisa Elisa Caterina Caterina, un fortissimo applauso Dai Silvana Silvana Rosaria Rosaria, no il maschietto del gruppo dopo Carmela Carmela Antonietta Antonietta Anna 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 Maria Angela Angela, mi sto riservando due persone per ultimo Credo tutte, tutte, tutte E a lei, l'abbiamo già fatto Il maschietto dopo E la signora L'abbiamo già presentata Ecco, mi sono riservato due Il maschietto perché è il maschietto del gruppo L'altra, Lucia È di San Giuseppe È di San Giuseppe L'ho vista crescere C'è anche il marito Dov'è il Peppe Peppe Pele Che l'ho visto veramente crescere Ok E naturalmente Il maschietto del gruppo Il maschietto del gruppo Eh, come si va? Come si va? No, beh Francesco Un applauso a Francesco Ma voglio adesso Tutti sul palco Dai, dai, dai Anche le signore che non Non appartengono al Giovan Vieni pure tu Dai Anche Non avete vergogna Immaginate Ball purì Quindi è il massimo Del massimo Del massimo Eh Se qualcuno vuol venire Facciamo questi quattro balli finali Mischiati Mischiati Per chiudere Questa bella serata Vi ripeto Forse il tempo Forse Ecco Immaginate nel frattempo Rosa, Rosa, Rosa Dai, dai Vieni pure tu Dai con le tue allieve Eh Le ragazze di Rosa Liberamente Anche qualche Qualche Io so che qualche signore Quante voi Signore Stanno lì Che vanno a ballare E che non vogliono salire Loro Saranno presente Giovedì a Santa Lucia Perché Così come diceva Rachele Oltre ad essere di Passiano E quindi Lavorano qui a Passiano Con la scuola Hanno anche una sede a Santa Lucia E quindi non possono Mancare a Santa Lucia Giovedì E quindi Li ritroveremo Giovedì a Santa Lucia Così come Qualcun altro E in video Anche le altre scuole Che vogliono andare Ai Pianesi Lo possono fare Allora Ci siamo Giovanni Ci siamo Io adesso finisco Non prima però Di aver ringraziato E lo faremo come momento finale Naturalmente Il Comitato Festa Naturalmente Il nostro Il nostro Don E naturalmente Vi aspettiamo In tutte le serate Domani sera Con la notte dei campioni E domenica Naturalmente Per la processione Del Santissimo Salvatore Via con la musica Dai Dai Ora si La musica Ma E Ma No Dime La musica La musica La musica Grazie per la visione 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 Grazie per la visione